Ancora truffe nella città di Agropoli a segnalarlo attraverso i social alcuni cittadini del posto che hanno segnalato nuovamente la truffa dell'incidente stradale. Signora, vostro figlio ha fatto un incidente stradale, siamo qui con i carabinieri e l'avvocato e siccome l'assicurazione della macchina di suo figlio è scaduta, bisognerebbe pagare in contanti. È sempre la stessa tecnica e le vittime preferite sono sempre le stesse, gli anziani. I malviventi, dopo aver telefonato, è illustrato dettagliatamente, con tanto di nome e cognome e diversi particolari della persona che avrebbe fatto l'incidente, chiedono una cifra di denaro per risolvere velocemente la cosa. Di solito sono sempre in due ad operare, uno controlla e l'altro si reca dalla vittima per recuperare il bottino. Così spesso persone anziane, soggetti più vulnerabili da raggirare e quindi di facile bersaglio per i truffatori, si ritrovano ad essere derubati di cifre anche elevate di oggetti di valore. Episodi simili si stanno verificando anche in altre località e non solo ad Agropoli. Si invita dunque a prestare la massima attenzione ed eventualmente di chiamare immediatamente i carabinieri al numero 112.